Il Popolo delle Libertà ha già presentato un emendamento per fare sì che l'Imu possa essere pagata non in un'unica soluzione ma a rate e crediamo che questo sia un vero aiuto per le famiglie italiane. Inoltre ho fatto presente al Presidente Monti che noi intendiamo sostenere il Governo e proprio per sostenerlo al meglio chiederemo che venga cambiata la riforma del mercato del lavoro soprattutto per quanto riguarda le procedure di assunzione. Noi vogliamo che sia più semplice assumere e se rimangono fermi una serie di vincoli e di appesantimenti che questa riforma contiene rischiamo di avere un disincentivo alle assunzioni come le imprese sia le grandi che le medie che le piccole hanno già denunciato.